Molti di voi lo sanno già perché hanno assistito alla live che abbiamo fatto su Twitch nella giornata di giovedì però magari qualcuno se l'è persa quella live e non sa esattamente cos'è accaduto intanto io ringrazio tutti quelli che sono stati presenti in quelle tre ore di live che sono state impegnative, intense ma anche bellissime per un progetto inaspettato, infatti quello di oggi non è un video sul calcio così come lo conoscete bensì andiamo a divertirci tutti insieme con un contenuto un po' più leggero, un po' più dinamico che possiamo affrontare anche per farci due risate Che cos'è successo giovedì? Ho avuto l'opportunità di andare a Milano per una bellissima collaborazione con PES Perché? Perché è possibile scaricare PES Lite e quindi giocare anche all'interno delle vostre console con PES con delle funzionalità ridotte rispetto alla versione completa ma che vi dà anche l'opportunità di prendere in mano il joystick della vostra console e di divertirvi, di passare del tempo insieme ai protagonisti della vostra squadra del cuore E quindi vi lascio qui sotto in descrizione il link per scaricare gratuitamente appunto PES Lite e iniziare un po' a metterci le mani e a giocare anche con la Juventus perché noi che siamo tifosi della Juve abbiamo l'opportunità di giocare con la Juve che è esclusiva appunto di PES Partner ufficiale, non so se vi ricordate l'anno scorso, proprio grazie a loro sono stato in grado di viaggiare con la Juventus e sono riuscito ad andare a vedere Atletico Juve, una partita bellissima di Champions League la prima del percorso europeo di Sarri quando ancora non c'era il Covid e quando si stava molto bene E allora, in live tra una cosa e l'altra di MyClub abbiamo iniziato a domandarci possono fare i giocatori della Juve determinate cose? E siamo partiti con Cristiano Ronaldo in porta purtroppo poi il nostro avversario a un certo punto ha deciso di concederci la partita mentre stavamo perdendo tra l'altro, quindi questa cosa è un po' strana In che senso? E allora da Cristiano Ronaldo siamo passati a Bernardeschi e ci siamo detti, Bernardeschi in porta, come se la cava? Vai Berna, tocca questi palloni No, no, no! Ma rega! No, scusa, no! Ma in che senso? Ma in che senso? Questa è assolutamente la prima delle challenge che abbiamo fatto e quindi vi invito a mettervi comodi e guardiamoci insieme come se le è cavate a Bernardeschi in porta Berna, io te la do per non farmi inchiata Bravo Berna, così Vai Berna, avventurati Vai Berna, avventurati Vai Berna, all'avventura Vai Berna, vai Berna Vai Berna, vai Berna Sì, 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 sì Sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì Sul mancio Berna Berna Oddio, 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 oddio Un caldo, un caldo, un caldo di zuccheri Un caldo di zuccheri Sto male, sto male, sto male, sto male, sto male Molto bene, missione compiuta Tra l'altro, ragazzi, davvero, sono stato malissimo Nel momento che ho urlato Si vede che non ero pronto Mi è completamente venuto un mal di testa atomico E ho dovuto rilassarmi Infatti quando dico sto male, sto male, sto male Non stavo fingendo Stavo dicendo davvero Perché rischiavo di sminire un momento all'altro Bernardeschi È andato tutto bene E abbiamo detto Beh, questa l'abbiamo affrontata Ma se invece mettiamo un portiere in attacco Cosa mai potrebbe succedere? E quindi è stato il turno di Gianluigi Buffon Ragazzino delle giovani della Juventus Che è andato là, davanti A fare il centro avanti Buffon in attacco Secondo voi riuscirà a segnare oppure no? A voi la scelta Vai Buffon, trequartista, girati Girati e resisti alle cariche Sempre Buffon, sempre Buffon, sempre Buffon Sempre Buffon, sempre Buffon, sempre Buffon In area, messo giù Eh, ma questo è calcio di rigore non fischiato A Gigi, oh! E allora Buffon va Così Ragazzi il pallonetto Ragazzi il pallonetto Vabbè, dovevo tirare e basta Dove sei Gigi, dove sei Gigi? No! Questo è calcio di rigore però Questo è calcio di rigore Era a porta vuota C'è solo un uomo al mondo A 52 di tiro Ma non può? A 52 anni Si prepara Col pallonetto Ragazzi Rigore col pallonetto di Buffon Non risulto neanche perché potrei morire da un momento all'altro E anche questa l'abbiamo completata E vi invito a scrivere qui sotto nei commenti Allora, Bernardeschi in porta, Buffon in attacco E Pinsoglio in attacco invece Cosa potrebbe mai fare? Scrivetemi qui sotto, secondo voi Se riusciremo a far gol anche con Carletto Pinsoglio Pinsoglio meglio di Messi Si, Pinsoglio che se lo va a recuperare Puoi cercare Ronaldo L'1-2, ancora Pinsoglio Ancora Pinsoglio E c'è il gol Di Carletto Pinsoglio Anche lui Si scrive al cartellino Dei marcatori, ragazzi Ragazzi Carletto Pinsoglio 1-1 1-1 Riuscirà a battere il record di Gianluigi Buffon E poi chiama il passaggio Pinsoglio Pinsoglio Ma che brutto Si fa segnare Cristiano Ronaldo Si fa segnare Cristiano Ronaldo Attenzione Fino adesso le abbiamo fatte tutte Unplay Ne manca una Una e una sola L'ultima Cioè Pinsoglio ha fatto gol Buffon ha fatto gol Ma giocavano di fianco a Cristiano Ronaldo Buffon e Pinsoglio Da soli Là davanti Secondo voi Questa è quella definitiva Attenzione L'ultima challenge del video Quindi Tocca a voi Pronostico qui sotto nei commenti Cioè Bravissimo a fare il trequartista Pinsoglio Torre Gianluigi Buffon Neanche su azione L'assist con Pinsoglio L'intesa incredibile dei due Che si vanno ad abbracciare Il primo gol Dopo 5 minuti Guardateli che si abbracciano Buffon e Pinsoglio Che forti che sono Che bello Stupendo Veramente super bella Questa cosa Tutto ciò è fantastico Pinsoglio Buffon Dentro per Pinsoglio Ora Pinsoglio Ora Pinsoglio Allarga su Chiesa 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 in area Chiesa Dentro per Pinsoglio Gol di Buffon Gol di Pinsoglio 2-0 Carletto Pinsoglio Perché ti fate ragazzi? Voglio un sondaggio Voglio un sondaggio Per chi ti fate Tra Buffon e Pinsoglio Che volete che faccia Più gol Dato che sono 2-2 Gol segnati Buffon 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 Fuori area Mi sto vergognando Di quell'altro Di quell'altro Buffon Si butta dentro Poi appoggia per Pinsoglio Ancora Pinsoglio Pinsoglio in area Pinsoglio La finta di Pinsoglio E la doppietta di Pinsoglio Ragazzi 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 È la Civil War Buffon contro Pinsoglio Tre gol a testa E per me E per me Grazie Carlo Questo gol Chiesa recupera Chiesa Dentro Per Carletto Carletto fa la punta Fa la punta E fa viaggiare Federico Chiesa Nello spazio Federico Chiesa La recupera Ancora Chiesa Ancora Chiesa Ancora Chiesa Ancora Chiesa Chiesa la mette dietro Per Buffon La porta a casa Gigi Buffon Porta a casa il pallone Aleo Aleo Si Ha fatto gol Ha fatto gol Ragazzi È un momento incredibile Esultano per il 5 a 1 Si E signori Dopo averle completate tutte Queste challenge Che abbiamo fatto In live Insieme su Twitch Per PES Io direi che è giunto il momento Di salutarci E vi ringrazio Se siete arrivati fino a questo punto Perché È veramente un contenuto diverso Da quelli a cui vi ho abituato di solito Ho cercato di farlo Più juventino possibile Infatti i protagonisti sono I giocatori che amiamo Che tefiamo Anche quelli che magari Come Bernardeschi e Pinsoglio Non sono Proprio Dei titolari Lo stesso Buffon Ormai Non è più un titolare Però alla fine Per fare queste cose simpatiche Tornano sempre utili Con una volta vi ricordo che qui sotto In descrizione c'è la possibilità Di scaricare PES Lite Sulle vostre console Quindi dateci un'occhiata Perché veramente Non vi costa nulla E vi da l'opportunità di giocare A un gioco storico Ormai E che ha la Juventus Come assoluta protagonista A livello italiano Almeno Noi ci salutiamo Vi invito a supportare Questo video con un mi piace Un commento Una condivisione E fatemi sapere anche Se un contenuto di questo tipo Un po' diverso dal solito Vi ha fatto piacere Ciao forza Juve Ciao Carlo Mi iscrivi dai un po' Mi iscrivi dai un po' Mi iscrivi dai un po'